Giocatori in erba pronti a solcare i campi di domani. Noi siamo in Toscana! Una grande famiglia che insegue un sogno. E se poi entro? Io non sono pronto. Uno sguardo sul mondo del calcio, con le sue luci e le sue ombre. Io voglio che tra 45 minuti il Toscana retroceda. Io non la voglio perdere questa partita, insomma, retroceda. Quello sarà anche l'allenatore, ma io sono il presidente! Tutto questo è The Net. Gioco di squadra. Questa sera 21.20. Rai 2. Rai 2.